Su serio, ti rimbocchi le maniche? Voi ragazze penserete... Il mio ragazzo diceva che era un film di supereroi, ma quello vestito di rosso ha appena infilzato quel vestione come un fottuto kebab. Potrò anche essere super, ma di certo non sono un eroe. Comunque tecnicamente questo è un omicidio, ma molte storie d'amore iniziano con un omicidio e questa è proprio una storia d'amore. Ma per gustarcela pieno dobbiamo tornare a prima che mi strizzassi le chiappe in questa tuta di spandex rosso.